Salve a tutti, ci troviamo in azienda agricola Simonetti di Stafolo, provincia d'Ancona. Con noi c'è Marco Simonetti, titolare dell'azienda, che ci spiegherà la produzione del velonicchio. Ciao a tutti e grazie per la vostra attenzione. Spiegherò i nostri procedimenti in vigna. Per la produzione del verdicchio utilizziamo questi vigneti, seguendo queste caratteristiche e applicando queste nostre tecniche di lavorazione. Sotto fila, come potrete vedere dal video, andiamo a non utilizzare nessun tipo di diservante, cioè grazie a degli strumenti di lavorazione andiamo a lavorare sotto fila, togliendo tutte le erbe infestanti. Per quanto riguarda la parete della vite, andiamo a fare dei trattamenti vecchio stile, rame e zolfo, cioè utilizzando pochissima parte di rame e zolfo, nel minimo indispensabile da poter curare la pianta al momento del bisogno. Per quanto riguarda la puntatura verde, andiamo a togliere le femminelle e le foglie che danno intralcio al passaggio del rame e zolfo, cioè il prodotto biologico che diamo alla vite stessa. Andiamo a togliere le femminelle che sono vicino ai grappoli, femminelle come queste, che creano sì che la vite non arrivi a maturazione come si debba. In più, crea questo affastellamento, questo ammucchiamento, dove la vite non è rieggiata. Facendo in questo modo, riusciamo ad avere un passaggio di aria all'interno della vite stessa e a togliere tutti quei doppi, in questo caso come qua, come potrete vedere, andando a togliere un doppio, eliminandone uno. Grazie a tutti.